Arrestato sabato notte dai carabinieri della stazione di Pozzallo, Gaetano Ventura, 29enne pozzallese già noto alle forze di polizia, il giovane è accusato di detenzione e legale di arma comune da sparo. I carabinieri già da tempo seguivano il ragazzo e sabato lo hanno controllato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale ha assunto un atteggiamento sospetto. Effettivamente, durante il controllo nell'abitazione del giovane, i militari dell'arma hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 marca Mauser con relativo munizionamento, perfettamente funzionante, detenuta illegalmente. L'arma è stata trovata dai carabinieri nel garage del 29enne, in ottimo stato di conservazione e ben occultata sotto alcuni materiali accatastati. Adesso la pistola e il relativo munizionamento sono stati sequestrati e saranno inviati al RIS di Messina per i successivi accertamenti di natura balistica, volti a verificare se sia stata mai utilizzata per compiere reati. Al termine del controllo, il ragazzo è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto e su disposizione del sostituto procuratore di turno, Marco Rota, è stato prodotto alla casa circondariale di Ragusa. I carabinieri intanto proseguiranno gli accertamenti per risalire alla provenienza dell'arma sequestrata e capire l'utilizzo che ne avrebbe fatto il giovane.